Ma io qui sono diverse volte che ho richieste, telefonate e non si riesce dal comune a avere risposta per dare una pulita, perché con tutta l'erbaccia che va fra poco alla striscia bianca della sosta, c'è anche cartacce, non c'è pulizia e questo succede ormai da tre anni, un cartello piegato che lo sanno già anche l'Atam, fa pena, tocca la striscia bianca piegato dal vento, resta così, insomma c'è un po' di abbandono, mi sono tancato di telefonare, perché io vivo qui, passo tutti i giorni, quindi volevo vedere un po' di decenza, che non c'è. E altre problematiche poi sono sulla polisportiva, è un paese senza polisportiva, è brutto perché ci sono più di 40 ragazzi, di tutte le età, sono costretti a vivere tutti a Rigutino, a Rigutino c'è troppe squadre, hanno un campetto solo, perché c'è due, ma uno l'occupa gli extracomunitari, l'altro è per la polisportiva. Quindi i ragazzi non hanno bisogno di andare a giocare un attimo, cosa costa due spogliatoi a quella polisportiva che so costano una miseria, sono cose che tutti le possono fare. Il comune fa le storie, non riesce ad avere un campo che c'era addirittura prima della guerra, non esisteva campi sportivi, da Castiglioni all'Olmo, da Foiano all'Alberoro non c'era un campo sportivo nei paesi, questo era l'unico campo che esisteva, venivano giocati da tutte le parti, a volte se leticava perché c'era troppo a giocare in quel contesto campo. Oggi non siamo in grado di avere un metro di spazio per giocare, perché non c'è spogliatoio, non c'è bambino. Quando c'è tutto, perché c'è il pozzo, c'è la corrente portata lì dalla polisportiva, c'è tante cose. Quindi con pochi risparmi si dà un campo sportivo a un paese che ancora sia il sindaco che il vice sindaco non lo hanno capito, o la giunta comunale. Era stata una promessa dalla giunta di sinistra che si sono permessi di fare dei passaggi che non potevano mandare avanti, quindi è condannabile anche la giunta di sinistra. E questa di ora che è la sorella, perché almeno uno qualcosa deve fare per il paese. Qui si riescono a morire quelli che hanno la mia età e non riescono a vedere un campo sportivo un pochino decente in questo paese. Siamo stanchi tutti. Semplice e non costoso. Non si tratta di progetti come è stato chiesto. Progetti eliminiamoli. Tanto era tutta una storia politica. Qui ci vuole solo spogliatoi e un campo sportivo che funzioni. Io qui, se è stato più volte, anche la signora Tanti, l'assessore, hanno visto il locale. Questo è un bello ambiente, un campo sportivo dei primi, che era prima della guerra. È stato il secondo campo sportivo che è andato in provincia di Arezzo. Io dico, Montagnano, Castiglion Fiorentino, fino all'Olmo, da Montagnano fino alla Piavantoppo non c'era un campo sportivo. Venivano tutti a giocare Frassinetto. Oggi questa truttura è abbandonata completamente. C'è l'erba un metro e mezzo alta, ma i figlioli di Frassinetto non hanno un po' di verde dove andare a giocare. Ma come si fanno? È una bella coscienza di dire teniamo i campi sportivi per quei ragazzi. Cosa devono fare i ragazzi? Andare a drogarsi. Non c'è divertimento. Qui non possono giocare, non possono niente. È un abbandono totale di un centro sportivo meraviglioso. Grazie a tutti.